Quello che è successo in Consiglio Comunale è estremamente grave. I consiglieri comunali hanno abbandonato l'aura facendo mancare il numero legale e in particolare tre della maggioranza, impedendo anche una discussione e un confronto su un tema vitale che è quello della localizzazione di un impianto di GNL liquido all'interno del porto di Bremis, perché noi l'abbiamo detto nella delibera di giunta, l'ho detto nel mio intervento, non abbiamo messo in discussione astrettamente un impianto, abbiamo messo in discussione il luogo dell'impianto. Si può realizzare l'impianto in un altro luogo all'interno del porto di Bremis. Certo costa di più per Edison, evidentemente qualcuno ha preso queste ragioni. Ora noi non ci facciamo assolutamente ricattare da nessuno, questa rimane la nostra posizione, è la posizione che abbiamo ribadito in giunta e verrà trasmessa al Ministero, è la posizione che ho ribadito al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il quale mi ha assicurato che senza un accordo col Comune non ci sarà un'intesa Stato-Regione. Quindi nessuno pone sotto ricatto questa giunta, noi andiamo avanti e poi ci sarà una verifica anche politica con chi si è assunto la responsabilità di non esprimersi in Consiglio Comunale.